Buonasera, benvenuti, bentrovati cari amici e care amiche di Tutta Salute. Un'altra puntata insieme, un'altra mezz'ora spero rilassante e anche però molto importante per voi che ci ascoltate e che ci seguite così numerosi ogni settimana. Allora, oggi viviamo più a lungo, è vero, però gli anni aggiunti spesso non sono anni di salute. Questo perché la medicina è sempre più capace, sempre più in grado di curare malattie anche gravi e di mantenerci vivi, ma noi non siamo altrettanto bravi ad avere uno stile di vita che possa mantenerci in salute. Oggi parleremo proprio di questo binomio, longevità e salute, e magari anche di quali possono essere gli alleati per questo obiettivo. Una cosa che sembra tanto ovvia a parole, ma a quanto pare molto difficile da tradurre nei fatti, visto che sono sempre di più, ad esempio, le persone che soffrono di obesità, ansia, stress cronico, hanno disturbi alimentari, per poi non parlare delle patologie neurodegenerative e dei tumori. Quindi la sfida di oggi non è semplicemente vivere più a lungo, ma aumentare l'aspettativa di vita sana, ammalarsi meno e soprattutto il più tardi possibile. Partendo dal presupposto che l'età cronologica è inevitabile, quella ce l'abbiamo, non può essere cambiata, l'età biologica invece può essere influenzata da molti fattori, perché l'età biologica è l'età delle cellule e dei tessuti del corpo di una persona. Ognuno ha la propria età biologica. Allora, su che cosa dobbiamo lavorare? Poi viene in mente anche questa domanda che si fa di frequente ai centenari o comunque alle persone che non dimostrano affatto l'età che hanno. Cosa gli chiediamo? Chiediamo qual è il tuo segreto. Ma siamo proprio sicuri che ci sia un segreto? Allora, oggi per parlarne è tornato qui, nello studio di tutta salute, un nostro amico, il nostro nutrizionista di fiducia, che è il dottor Diego Palazzini, che è nutrizionista clinico e dello sport, collaboratore della Domus Medica di San Marino, e anche docente all'Università degli Studi di Urbino e responsabile nutrizione della Lega Italiana lotta contro i tumori. Benvenuto, dottore. Grazie, ben ritrovati a tutti. Oh, che bello riaverti qui. Noi ci diamo del tuo, eh? Sì, è un piacere trovarsi. Lo sappiamo noi, lo sa il pubblico, quindi ci ritroviamo qui. Allora, dottore, oggi longevità e salute. Ci chiediamo quali possono essere i nostri alleati. Lo vedete anche scritto nella nostra fascia, nel nostro titolo. Ti chiedo subito, intanto, dottore, quando parliamo di benessere psicofisico, che cosa intendiamo? Di che cosa stiamo parlando? Grazie, Lucia. Allora, quando parliamo di benessere psicofisico, ne intendiamo soltanto l'assenza di malattie, l'assenza di problematiche, ma un benessere globale, che è inteso nel benessere interiore, nel rapporto con gli altri, quindi relazionale e sociale. Infatti, la Razzemonia della Sanità non parla più di assenza di malattie, ma parla proprio di una salute generale, intesa da un insieme di fattori. E cosa coinvolge questi fattori? Chi coinvolge? Tutti noi. Perché per star bene non siamo solo noi in primis, ma anche chi ci circonda, che ci permette di vivere una vita serena. Quindi ci influenza l'ambito lavorativo, l'ambito familiare, l'ambito sociale. E lavorare su questi aspetti è sempre più complicato oggi giorno, perché siamo molto accelerati. Siamo molto accelerati, abbiamo sempre tante cose da fare e la salute a volte la lasciamo un po' da parte. La lasciamo un po' così da parte. Però, dottore, quali sono allora i fattori che incidono sulla longevità? L'abbiamo citata, abbiamo citato i centenari. Ci sono dei tratti comuni nelle persone che arrivano a cento e più anni. E quali sono questi tratti? È un segreto. Beh, è un segreto. Proviamo a guardare se è un segreto di pulcinella è un vero segreto. Ma in realtà non è un segreto, perché i nostri centenari cosa fanno? Vivono secondo i ritmi della natura. La natura detta dei ritmi scanditi dal giorno e dalla notte, dal fluire del vento, il fluire dell'acqua. Ritmi sereni. Sereni. Tra l'altro centenari che sono stati studiati in tutto il mondo. Sono stati studiati perché sono in tante aree geografiche. Sono state individuate circa cinque zone in giro per il mondo dove ci sono tanti ultracentenari. Che c'è anche l'Italia, la Sardegna. E' l'Italia. Abbiamo le zone dell'Ogliastra all'interno della Sardegna, che sono aree dove ci sia un grande numero di longevi. Quindi ultracentenari. Ma ultracentenari, i malattia, no, no, ultracentenari che camminano, si muovono e si divertono e vivono. Attivi, sani. Attivi, perché non è questione del numero, giustamente come diceva all'inizio. È la qualità di vita. Perché è cento anni, ma con la testa, con il corpo, con le buone relazioni. Questo è l'obiettivo. Ecco, ma il segreto, mi chiedevi, il segreto qual è? Beh, analizzando queste popolazioni noi troviamo che vivono una vita semplice. Mangano cose molto diverse tra di loro, ma secondo quello che offre il proprio territorio. Quindi troveremo che in certe aree del mondo si consumano le famose alghe, tanto a volte introdotte in Italia, ma solo in quelle aree dove vengono raccolte, essiccate e consumate. Perché a distanza di tempo, a distanza di chilometri, quindi trasferimento, vengono addizionate da conservanti, vengono confezionate. Quindi altano quelle capacità benefiche che si trovano appena raccolte, essiccate. Oppure abbiamo esempio nella nostra amata Sardegna l'utilizzo di vini, vini corposi, che hanno delle caratteristiche benefiche anch'esse. Quindi addirittura il vino ha delle caratteristiche. Il vino, assolutamente. Nell'Ugliastra una delle abitudini di questi ultracentenari è consumare il Cannonau, un vino notoriamente corposo. E questi centenari un goccino di vino non lo fanno mai mancare in tavola. Quindi è un insieme di fattori. Mangano cose a volte anche ricche in grassi, ma inseriti in un ritmo di vita sano danno longevità. Utilizzano la medicina dei semplici, come si suol dire, ossia dei principi attivi presenti in natura. Quindi si curano con quello che offre la natura. Vivono una dimensione molto lontana a noi. Perché questo? Perché sono anche in aree geografiche dell'entroterra o isolate dalle grandi città. Quindi possiamo guardare queste popolazioni e prendere ciò che offrono di buono come informazione e riportarla nel nostro modo accelerato. Quindi, dottor Palazzini, questa è una formula per rallentare l'invecchiamento, vivere in questo modo? Possiamo definire. Si può rallentare questo processo? Allora, il processo di invecchiamento delle nostre cellule non è reversibile, ma è rallentabile. Cioè, nel senso che il nostro corpo è attivo finché noi vogliamo che sia attivo. Una persona che decide la sua vita di fermarla su una sedia, non stimolare la mente, non legge, non studiare, piano piano invecchia. Ma questo si può avere già 22, 23 anni? Non bisogna aspettare tante decadi. Perché se noi decidiamo di non stimolare con le relazioni, con lo studio, con l'attività sportiva, il corpo tende a rallentare. Se invece noi teniamo sempre il corpo attivo, non dobbiamo fare chissà che attività di ultramaratona o prendersi 50 lauree, ma allenar la mente, muoversi, il corpo mantiene una sua funzionalità, garantisce questo. Il corpo quindi, se stimolato, risponde con una struttura muscolare, risponde con delle cellule in grado di reagire. Un po' come se è immunitario, se è stimolato, impara, reagisce e si rende più forti. Se è immunitario, viviamo dentro una boccettina di vetro, al primo soffio d'aria ci ammaliamo. E il nostro benessere, dottor Palazzini, può iniziare in maniera molto semplice e accessibile dal nostro piatto, no? Assolutamente. Dalle cose che mangiamo. Vediamo queste due foto, grazie a Gianmarco Zannoni, il nostro regista di oggi, perché ci dicono un po' che cos'è l'over eating. Vedete, qua c'è del cibo, insomma, abbastanza, mi viene da dire, pesante, impegnativo, no? Dal punto di vista delle calorie, dal punto di vista anche della combinazione, credo, ma questo ce lo dirà poi lei, no? Qui vediamo un hamburger gigante, patatine, birra, insomma, un'abitudine alimentare che certo, ecco, non aiuta il processo di cui stiamo parlando oggi, no? Poi c'è anche questo bel piatto di spaghettoni, grazie a Gianmarco, anche qui gli spaghetti è un piatto di pasta, ecco, questi sono, sembra la mia porzione di spaghetti. Un po' sordi. Quando mi vanno gli spaghetti, io faccio una roba del genere, più o meno, un po' così, all'Alberto Sordi. Però ecco, per dire, anche il cibo che fa bene, come può essere magari la pasta, ovviamente va dosato, no? Assolutamente. Allora, questa è una cattiva abitudine, dottor Palazzini. L'eccesso alimentare non è mai una buona abitudine, che sia verso un cibo più salutare o meno salutare. Cioè, l'eccesso alimentare, che sia verso un alimento ritenuto benefico, non è buono, come neanche l'eccesso verso un alimento notoriamente non benefico. Quindi, il manzare eccessivamente, il hamburger con condimenti vari, salse varie, cose strane, non è una buona scelta. Con me non è neanche la buona scelta manzare delle intere casse di frutti e verdura. Cioè, ci vuole quell'equilibrio. Perché è complesso oggi? Perché chiaramente il manzare tanto cosa porta? Porta appagamento nell'immediato. C'è proprio un discorso anche psicologico. Sì, psicologico, ma anche fisico. Perché nel momento in cui noi mangiamo, ci nutriamo, quindi c'è questo stimolo di appagamento che noi abbiamo. Quindi riempio la mia bocca, mi nutro. Questo ricordo quasi freudiano del mangiare, questo elemento che ci rilassa, è un primo segnale di appagamento. Il secondo, già a livello della bocca, quando questo glucosio, questo zucchero contro i cibi, immediatamente si rende disponibile da un segnale immediato che dice al corpo, guarda, stai bene. Poi c'è la distensione della parete gastrica. Lo stomaco si dilata e abbiamo un immediato segnale meccanico. Va avanti il cibo, arriva nell'intestino. L'intestino vengono liberate delle molecole che anche qui danno un altro segnale. Quindi immaginiamo un insieme di segnali che dicono che tutto va bene, sono felice. Cosa vuol dire? Rilascio di endorfine. Rilascio di piacere. Quindi se la vita è un po' impegnativa, mangiare grandi volumi è una grande pacca sulla spalla. Ecco perché molte volte gestire poi questo overheating non è semplice, perché non si tratta più di cibo o di frutto o di qualcosa di fisico, ma dietro c'è questa relazione. Quindi è importante agire come elementi sazianti, quindi l'importanza di scegliere alimenti e scegliere qualcosa che ci renda più pieni. Quindi giocare un po' sull'aspetto di ingombro fisico, giocare sull'aspetto di appagamento del cibo. A far questo c'è l'abbinamento dei piatti innanzitutto, c'è l'utilizzo di molecole come fitocomplessi di origine vegetale che danno anche appagamento, quindi c'è un gioco di equilibri. Un gioco di equilibri. Vediamo allora il piatto della salute, perché il dottor Palazzini non ci sta dicendo altro che appunto i cambiamenti nello stile di vita che hanno un impatto positivo e praticamente immediato sulla nostra salute partono proprio da qui, da quello che noi mettiamo nel piatto. Allora, in un piatto sano, dottor Palazzini, ecco cosa troviamo. Che cosa? Troviamo all'interno del piatto i cereali, specialmente i cereali integrali. Questo perché cereali, frutta, verdure, proteine sono gli elementi della nostra alimentazione che già conosciamo come dieta mediterranea. Di particolare cosa c'è? Quando parliamo di cereali, cereali integrali, cioè che contengono all'interno una componente fibrosa, perché la fibra è quella componente della nostra alimentazione, circa 30 grammi di fibra al giorno è la dose consigliata con l'azione di prevenire i tumori, specialmente quelli del colon retto, da assumere. Ecco, questa fibra la troviamo nella parte esterna, la cariosside, quindi nella parte del chicco. La troviamo dove? La troviamo nel cereale integrale, quindi pane, pasta, integrali, benvengono. Meglio ancora se consumati il chicco tal quale. Quindi, se decidiamo di consumare del grano, del faro, dell'ordo, anziché prendere la pasta al faro, la pasta all'ordo, prendiamo direttamente il chicco intero, integrale, qualche tempo in più nella cottura, e un occhio in più nella cottura, ma sicuramente un appagamento maggiore perché ha un flavor, un insieme di aromi molto più gustoso. In più, la parte esterna, prendiamo completamente la fibra. Nella parte esterna, oltre a esserci la fibra, c'è anche un apporto importante sia di componente proteica che di componente vitaminica che di minerale. Cereali. Proteine. Proteine che cosa dobbiamo scegliere? Beh, qui andiamo su quelle vegetali, preferibilmente. Noi italiani negli anni abbiamo pensato ai legumi come il cibo semplice, quasi dei poveri, quasi da nascondere. In realtà... Un sostituto della carne poteva essere. Un sostituto che negli anni è stato un po' bisfrattato, poverino. In realtà adesso i legumi si riconoscono a grandi capacità benefiche, molto utili per la flora intestinale, ma in generale per il nostro corpo. Quindi preferiamo proteine di origine vegetale. Inseriamo però anche di origine animale, scegliendo dove. Beh, è la nostra realtà più vicina, il mare. Quindi prodotti ittici. Prodotti ittici anche qui, cercare di scegliere che cosa? Pezzature limitate e secondo la stagione di pesca. Quindi non andiamo a chiedere al pescatore, al pescivendolo, fuori stagione un pesce che non nuota nei nostri mari, perché per forza dovrà richiederlo a un mercato molto distante. Quindi in base alla stagione chiediamo in pescheria qual è il pesce che sta nuotando nelle nostre coste e consumiamo quello. E in questo dobbiamo fare, no? Come ci diceva all'inizio, come i centenari, ci diceva questa bella immagine del dottore, seguire il vento, seguire l'aria, seguire la natura. Frutte e verdure si abbinano a questo ragionamento, Lucia. Perché? Perché frutte e verdure è in base a cui la stagione offre. Quindi frutta e verdura, primaverile, estiva, autunnale, quello che offre. Noi andiamo a cercare un frutto e una verdura che ora non c'è. Perché? Perché sarà di serra o proverrà da tanti chilometri di distanza. Se vogliamo guardare anche una parte di rapporto tra uomo e pianeta, se io desidero consumare un frutto che deriva non dalla serra, ma da tanti tanti chilometri di distanza, dovrà inquinare anche tanto. Perché arriverà quel frutto con un camion, con un aereo, tante le idee carboniche liberate nell'aria. La scelta alimentare deve essere fatta anche in ambito ecologico, di benessere del pianeta. Allora, e noi quando parliamo di alimentazione facciamo sempre riferimento a queste piramidi, la piramide alimentare, che una volta era di un tipo, vediamo la foto Gianmarco della piramide alimentare, la prima, ecco, vediamo che alla base di questa piramide ci sono tanti cereali, il pane, la pasta, cereali, poi frutta, verdura, poi carne, fino ad arrivare a quello che dovremmo consumare meno in assoluto, ovvero i dolci, gli zuccheri, eccetera. Però questa piramide, dottor Palazzini, è un po' cambiata in questi ultimi anni, perché adesso la troviamo così, vediamo la seconda piramide, Gianmarco, grazie, che ha alla base tanta frutta, tanta verdura. Diciamo che i cereali sono andati un po' in alto. Sì, la piramide alimentare è uno strumento che è stato individuato come uno strumento di rapida intuizione, abbinata chiaramente al piatto sano, che è abbastanza nuovo per il nostro sistema sanitario nazionale, mentre è un sistema di visualizzazione del piatto molto in voga oltreoceano, con la food and drug administration, molto in voga già nell'area svizzera o nell'area inglese. Ecco, in Italia usiamo la piramide alimentare e ogni tot cerchiamo di rinnovarla per essere più chiari. Più chiari perché giustamente alla base c'è quello che bisogna consumare maggiormente, la base. La base deve essere un prodotto vegetale come la frutta e verdura. Ancora più alla base ci vorrebbe anche l'attività motoria, quindi troviamo delle piramide, alcune con frutti e verdura, altre con l'attività motoria. Il cereale perché è stato spostato un pochettino più in alto? Per il semplice fatto che il rischio è sempre comunicativo. Il piatto prima di spaghetti ha fatto pensare anche a me assurdi, del maccherone o mai provocato motemagno, diceva. Perché chiaramente se noi diciamo all'italiano guarda di base il cereale non è che pensa all'orzo integrale, no, pensa agli spaghetti. Quindi per evitare che il messaggio sia vai, vai al supermercato e prendi mezzo chilo di pasta, è stato posizionato un po' più in alto. Perché si deve guardare già a chi quella piramide andrà a vederla, chi dovrà ragionarci. E a volte non è facile fare questo, perché i messaggi possono essere travesati. La comunicazione in ambito sanitario è una cosa molto complicata, perché si parte rapidamente per la tangenziale. Sì, è vero, ha proprio ragione, dottor Palazzini. Poi vedremo anche la piramide dell'attività fisica, perché abbiamo anche quella. Ma adesso andiamo a parlare, per esempio, degli alleati che possiamo avere in questa corsa alla longevità e al benessere. Gli integratori. Allora, qual è il ruolo degli integratori, se ce l'hanno ovviamente, per aiutarci a raggiungere questo nostro obiettivo di longevità e salute? Vediamo la foto numero 7, Gianmarco, grazie. Ecco, abbiamo qui una pillola che dà l'idea di essere molto sana. Ecco, dottor Palazzini, ci possono aiutare gli integratori? Integratore, come dice il nome, integra. Quindi fermiamoci un attimo a riflettere. Integrare vuol dire che non deve sostituire, ma integrare. Molte volte si corre il rischio, quando si parla di integratori, di trovare l'alternativa. Cioè, non mi va di mangiare quell'alimento, quindi prendo l'integratore. Non mangio frutti e verdura, quindi prendo quello. O l'alimentazione è povera, quindi vado su quello. Ma questo quindi lo posso dire io? Lo deve dire sempre il medico? No, assolutamente. E poi il concetto deve integrare. E dobbiamo scegliere a che cosa integrare. Quindi andare ad affidarsi comunque a case farmaceutiche, in realtà, che seguono le normative che abbiamo in area italiana, europea, che sono abbastanza precise. Evitare, adesso è tutto l'online, la ricerca del prezzo migliore, ma scegliere chi lavora con serietà, chi ha una storia credibile e chi utilizza materie prime valide. L'integratore quindi deve integrare. Nell'ambito alimentare, quando si parla di integratore o il mondo dei nutraceutici, è un calderone enorme. In realtà bisogna mettere in chiaro, perché quando in questo calderone noi pensiamo ha le moleque di origine vegetale, quelle di sintesi o altro, abbiamo un insieme di prodotti. Quindi la prima scelta è affidarsi a realtà valide del territorio. E poi cercare di guardare chi fa delle cose semplici. Ricordarsi delle monocomponenti, ossia utilizzare le componenti fitoterapiche, le piante, la vecchia medicina di semplice, la certosa di pavia, pensiamo, o camaldoli più vicini al nostro territorio, prodotti semplici, piante semplici che possono essere abbinate a supporto dell'alimentazione, possono andare a dare un aiuto. E quindi usiamo dei prodotti con razionalità, ove servono. Non affidiamoci all'online, non perché non vada usato il computer o altro, ma più che altro dietro c'è un'azienda reale o meno. Se l'online è di una casa farmaceutica, nota, va bene. Ma siccome nel mondo integratori molte volte i ragazzi vanno a cercare qualcosa di innovativo, porre molta attenzione, ha molta attenzione a questo. Poi anche gli abbinamenti vengono studiati, perché quando si parla di integratori è utile guardare la razionalità che c'è dentro quei prodotti, l'abbinamento che ci può essere per il controllo di un colesterolo o di una glicemia. Quindi, ove serve, razionalizzata assieme al medico di base, inserita in integrazione alimentazione, ove serve, con nutrizionista. Quindi sempre con razionalità. Ecco, tu sei un nutrizionista, ovviamente, ma quali sono, per esempio, le carenze più comuni che i tuoi pazienti hanno? O che in generale abbiamo, perché penso che più o meno tutti abbiamo delle carenze, potremmo aver bisogno di integrare. Assolutamente. Le carenze più diffuse che si riscontrano in generale sono la carenza di vitamina D e una delle più diffuse come territorio italiano, abbiamo una carenza. Qualche anno fa c'era la carenza proteica, anche se l'alimentazione è ricca, c'era una carenza di proteine in nostra dieta. Si è visto attualmente che c'è una carenza di vitamina D, che la vitamina D è una vitamina che noi andiamo a produrre con l'esposizione del nostro corpo al sole. Eppure, la dose che agisce anche come stimolo immunitario è una dose maggiore. Vuoi per una ridotta esposizione degli ultimi anni al sole, che stiamo meno all'aperto? Vuoi per tanti motivi che evitiamo il sole per la paura di qualcosa? La vitamina D è uno degli elementi. Un altro elemento in cui possiamo essere abbastanza carenti è lo stimolo antiossidante di difese immunitarie. Questo perché i radicali con cui veniamo a contatto giornalmente, ossia quelle sostanze che ci invecchiano, sia a livello cutaneo, quindi esteriore, che a livello interiore, sono delle sostanze che derivano da che cosa? Beh, dagli inquinamenti ambientali, dagli stress di vita. Siamo stoppossi a una dose di stressogeni molto maggiore rispetto alle anni passati. Quindi è utile andare ad alzare il nostro potenziale antiossidante, come si fa con magie. Tocoferolo, EPA, DHA, no, non sono magie, sono semplicemente i nomi di cosa. Della vitamina E contenuta nella frutta secca, nell'oliva, degli omega 3 contenuti nello sgombro. Quindi, in realtà, nomi strani, ma soluzioni molto semplici. Dobbiamo consumare maggiormente la frutta secca, dobbiamo consumare maggiormente lo sgombro, il pesce azzurro. Già queste piccole cose ci aiutano il nostro corpo a difendersi. Poi, può essere a supporto di queste andare a migliorare con l'integrazione di cui avevamo prima, ma a supporto o in abbinamento. Pensiamo al cardomariano. Cardomariano è uno dei medicamenti più affascinanti che noi pensiamo nella nostra medicina tradizionale. Beh, dal cardomariano si possono estrarre delle sostanze benefiche utili in abbinamento al controllo del colesterolo. Quindi, silimarina, berberina, sono nomi strani? No, silimarina, cardomariano, berberina è un altro prodotto di estrazione vegetale che bilanza il colesterolo. Ma è il cardomariano quello col bel fiore? Sì. È lui. È lui. Esattamente. E davanti a noi le cose. Solo che ci siamo dimenticate e ripeto, Certosa di Pavia, Camaldoli, la mia mente mi vengono in mente questi due posti in Italia dove si porta avanti questo cuore. Cerchiamo realtà che, aggiornate per il 2024 con le tecnologie, ancora basano la loro lavoro sulla semplicità e la qualità. Non cerchiamo molecole strane, magiche, perché la cosa è semplice. E dottor Palazzini, il bisogno degli integratori dura per sempre oppure si può interrompere? Allora, dipende a che scopo è nato. Se è nato lo scopo di far terapia, in alcune situazioni, terapia cronica, cronos, dobbiamo continuare con questa terapia. Quindi, in alcuni casi, l'integratore che, ahimè in Italia, è inserito come integratore, ma ha le capacità di un farmaco vero e proprio, viene utilizzato come terapia cronica, quindi costante nel tempo. Questo è un limite in Italia perché molte volte integratore non riusciamo a rimborsarlo mentre noi stiamo a sanitario nazionale. E questo è un problema perché in persone che devono fare una terapia cronica per gestire una dislipidemia, per gestire un problema di neurodegenerazione, è molto importante assumere questi integratori costantemente nel tempo. Se non c'è la possibilità di un alleggerimento dei costi diventa una cura limitata a poche persone e questo è un problema abbastanza notevole. Altri integratori mirano invece a integrare una momentanea carenza oppure a potenziare penalmente i sistemi immunitari in alcuni periodi dell'anno e a depurarsi in certi passaggi tra una stagione e un'altra. Quindi, questi termini potenziare depurare sono termini che alla medicina occidentale non piacciono molto però nella medicina indiana nella medicina cinese sono molto presenti quindi bisogna avere una visione olistica nel senso classico del termine e prendere le medicine tradizionali delle varie parti del mondo inserire una visione insieme e aiutare la persona non il paziente a vivere una vita migliore. Assolutamente. Prima hai accennato a una cosa vorrei appunto ripuntualizzarla i social sono una bella cosa però come sappiamo possono essere anche una grande insidia bisogna districarsi tra guru coach vari alcuni di questi non hanno neanche una formazione scientifica di base come invece state sentendo il nostro dottore Palazzini e tanti medici hanno quindi tanta fuffa vogliamo chiamarla così perché così si chiama che basterebbe non considerare o lasciar perdere se non fosse che molte persone si lasciano influenzare da queste informazioni che riguardano la salute e quindi è qui che diventa pericoloso affidarsi a chi non ne sa nulla di queste cose infatti ci parlavi anche tu di questo abuso anche di integratori in fascia d'età di giovanissimi che non sanno neanche come usarli quindi diciamolo è un problema che è presente nel senso che oggigiorno dato che abbiamo internet abbiamo le tecnologie ben vengono perché grazie alle tecnologie abbiamo imparato la telemedicina grazie all'intelligenza artificiale riusciamo ad aumentare la capacità di diagnosi quindi l'intelligenza artificiale è di poco qualche giorno fa la notizia che verrà introdotta in via sperimentale in alcune regioni per migliorare la diagnosi post imaging quindi da un attack riuscire a fare un ragionamento mettere la maniera semplice quindi ben venga la tecnologia dietro ci vuole sempre l'essere umano assolutamente social influence è chiaro che nel mondo del web l'intelligenza artificiale mi permette di presentare anche un corpo ancora più prestante di quello che sono quindi un'immagine artefatta ad uopo quindi bene o male la persona che si imbatte in questa immagine artefatta basa tutto sulla parte esteriore se quel ragazzo quella ragazza ha quel determinato corpo e scrive sotto dottor Pincopallo e non è detto che abbia questi titoli e non è detto e si si affida ma se lui ha queste caratteristiche anche io avrò quindi mi consiglia di prendere quell'integratore su quel sito punto Pincopallo sicuramente invito ai giovani parlare a casa parlare siamo al 2024 a tavola a pranzo spegnete le televisioni è una brutta cosa di televisione però quando si mangia poi guardate tutti i bei programmi dopo ma quando si mangia interagite in famiglia quando siete a colazione interagite con i vostri genitori interagite con i vostri educatori perché parlare è il primo elemento bisogna parlare e interagire parlare e dire ho visto questa cosa in internet cosa ne pensi? ne parliamo col pediatra col medico curante ne parliamo in famiglia parlare non è che con la paghettina chi ha la paghettina deve andare in internet no ma anche chi è un po' più grandino che fa questi discorsi che non si possono fare deve prendere coscienza perché non è solo il problema del teenager o dell'adolescente ma il problema è anche chi è un po' più grande chi magari è attirato dall'essere super uomini super prestanti eccetera 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 ma la sostanza non c'è bisogna ragionare e razionalizzare ecco razionalizzare poi ci hai parlato anche no allora il nostro benessere siamo in conclusione perché abbiamo quasi finito il nostro tempo no abbiamo parlato ci hai parlato anche di fattori ambientali no quindi è molto importante considerare anche quelli ce lo dicevi anche adesso no quindi anche comunicare fa parte del nostro del nostro benessere comunicare con le persone che abbiamo intorno alle quali vogliamo bene e che ci vogliono bene e volevo appunto arrivare a questa cosa intanto noi abbiamo fatto vedere la piramide dell'attività fisica perché anche quello serve molto oltre al piatto c'è anche questo ecco qua questa piramide che ha alla base che cosa un'attività fisica blanda quindi passeggiare scegliere di fare le scale per esempio no vero dottore poi dopo andando su ci sono cose sempre un po' più complicate la cosa all'apice della piramide che bisognerebbe evitare è starse dei seduti eh dottor Palazzini assolutamente e il stare fermi nuoce gravemente alla salute dovremmo mettere l'immagine di un divano nuoce gravemente alla salute essere chiari perché decide di parcheggiare un po' più lontano non ho tempo per fare un'attività sportiva non prendi l'ascensore usa le scale non ho tempo di fare attività fisica parcheggio un po' più in là cioè basta una piccola azione ma fatta quotidianamente e questo è già salute poi avrò tempo inserirò un'attività fisica quotidiana strutturata assieme a un laureato in attività motoria quindi andrò a fidarmi a un professionista dell'eserizio fisico e qui è importante anche qui affidarsi a laureati in scienze motorie con formazione magistrale dico questo perché non è mai nulla bisogna dare per scontato quindi la professionalità bisogna rispettarla in ogni sede e in ogni luogo anche i personal trainer veri ci sono sì laureati in scienze motorie punto allora dottor Palazzini abbiamo detto in questa puntata abbiamo svelato che non c'è praticamente nessun segreto bisogna abbiamo tutto davanti agli occhi vediamo le ultime due fotografie uno dei segreti che poi non è neanche segreto vedete qua fare bella attività fisica all'aria aperta magari insieme a qualcun altro ma anche da soli se volete perché insomma comunque è sempre qualcosa di importante e poi sorridere stare insieme sorridere dal mattino dal mattino bisognerebbe partire al mattino prendendosi qualche minuto per respirare magari atti respiratori profondi in quattro tempi tranquilli magari anche sul terrazzo all'aria aperta capire e ringraziare di questa bella giornata che inizierà capire cosa possiamo fare per il prossimo nella giornata e poi noi stessi poi partire con la colazione e attivarsi però partire già dalla mattina con una cura verso noi e verso gli altri bene bene dobbiamo impegnarci un po' di più non è sempre così facile però ci proveremo vero? ci proveremo grazie il nostro tempo è scaduto grazie a voi grazie mille al dottor Diego Palazzini nutrizionista clinico dello sport collaboratore alla Domus Medica di San Marino docente all'Università degli Studi di Urbino responsabile nutrizione per la Lega Italiana lotta contro i tumori grazie di essere stato con noi e torni presto assolutamente con piacere grazie questa puntata finisce qui vi ringrazio dell'attenzione ci vediamo la prossima settimana come sempre abbiate cura di voi